L'esperienza di questa scuola di formazione credo che sia un'esperienza molto importante. La politica ha bisogno di recuperare credibilità, formazione, interesse e una scuola rivolta ai giovani per far conoscere, per prepararli e farli diventare quelli che una volta si chiamavano i quadri della politica, credo sia un'esperienza molto positiva, affidare la formazione politica dei giovani solo al dibattito sui social network, molto gridato, molto urlato e anche molto poco profondo, è qualcosa che farà perdere alle nuove generazioni e al futuro del Paese quelle competenze, quella passione, quella professionalità che servono anche alla politica. Grazie a tutti!